Abbiamo visto nei miei video precedenti come bastano 5 minuti per creare un bot di Telegram che scrive messaggi di testo oppure invia un automatico immagini prese direttamente dalla rete o da Google Drive, nonché come salvare all'interno di un foglio di Google i messaggi che l'utente scrive nella chat. In questo video voglio mostrarti come istruire il bot di Telegram in modo da rispondere in modo dinamico ai messaggi dell'utente. Per farlo il bot analizzerà il messaggio di testo ricevuto e cercherà all'interno del foglio di Google la risposta più appropriata da fornire. Ho predisposto in uno spreadsheet una lista di cocktail con i relativi ingredienti e le istruzioni per prepararli. Ovviamente si tratta di un esempio e l'elenco non è esaustivo. Lo scopo di questo bot è quello di ricevere in ingresso il nome di un drink e fornire all'utente le opportune informazioni per poterlo preparare. Il nome del foglio dove ho inserito tali dati è foglio 2. Il foglio 1 invece è attualmente vuoto e lo utilizzerò per salvare i messaggi che gli utenti scrivono nella chat. Può essere molto utile ad esempio per verificare quale cocktail è più richiesto rispetto ad altri o per verificare se gli utenti richiedono qualcosa che non ho previsto e nel caso integrare la lista. Riprendo il codice del mio video precedente che prevedeva il recupero delle informazioni relative all'utente e al messaggio inviato nella chat nonché l'id della chat in questione dove rispondere con un saluto dandogli il benvenuto. Successivamente dietro le quinte il testo del messaggio inviato dall'utente veniva salvato nel foglio 1 dello spreadsheet associato insieme alla data all'identificativo della chat e al nome dell'utente. Ho mantenuto questa base anche per il nuovo script integrandola per far funzionare il tutto come descritto in precedenza. Riporto l'intero codice che vado a dettagliare riga per riga. Ovviamente se hai bisogno di più tempo per leggere o copiare vari comandi metti in pausa il video. La prima parte è essenzialmente uguale alla precedente. Ho solo adattato il messaggio di benvenuto con un testo più pertinente allo scopo del bot e spostato più in alto la variabile con il testo del messaggio dal momento che ho bisogno di conoscere il contenuto per poter andare a cercare nel foglio la risposta adeguata. Le righe successive rappresentano l'id dello spreadsheet al quale riferirsi, l'opportuno foglio con le informazioni sui cocktail ed il range ovvero l'intervallo di celle che contengono relativi dati. In questo modo sto dicendo di partire dalla prima riga e dalla prima colonna e considerare tutte le righe e tutte le colonne valorizzate. Recupero i valori dalle celle e ne determino la lunghezza. In questo modo posso effettuare un ciclo su ogni riga e verificare se il testo del messaggio dell'utente, che mi aspetto sia il nome di un cocktail, corrisponde a quello presente nella prima cella per ciascuna riga. In caso di corrispondenza rilevata costruisce la risposta da fornire concatenando il valore della seconda colonna ingredienti e quello della terza colonna, le istruzioni di preparazione. Una volta uscito dal ciclo invia la risposta nella chat e come già visto nel video precedente salva nel foglio 1 il messaggio dell'utente. Ricordarsi di effettuare il deployment di una nuova versione dell'applicazione da gestisci deployment. Se invece è la prima volta che pubblichi l'app dovrai prima eseguire una funzione manualmente per avviare il processo di autorizzazioni e successivamente effettuare un nuovo deployment. La procedura è molto semplice, ad ogni modo se servono dettagli rimando al mio video su come creare un bot di telegram in 5 minuti. Non resta che provare. Inizio con un saluto, che non essendo riconosciuto come un nome di un cocktail ottengo risposta il benvenuto all'invito a richiedere il nome di un drink. Inserendo ad esempio spritz, ecco che prontamente mi vengono fornite le informazioni che mi permettono di prepararlo. Magari sono interessato anche un mojito. Inserisco il nome di questa bevuta ed ecco che il bot si opera per cercare la risposta nel mio foglio google e mostrarla nella chat di telegram. Allo stesso tempo i messaggi che ho scritto nella chat sono stati salvati in ordine cronologico nel foglio 1. Spero che questo video ti sia piaciuto. Nel prossimo tutorial sull'argomento ti mostrerò come è possibile ottenere queste informazioni direttamente interrogando un servizio esterno, ovvero senza bisogno di scrivere e leggerle all'interno di un foglio di google. Ti invito pertanto a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video e a lasciarmi un commento se hai un dubbio, un suggerimento o un argomento che ritieni interessante e che vorresti fosse trattato in un tutorial. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!